Allora siamo con Davide Grippo, capitano del Cugliano e Valleggia, buon esordio oggi sul campo della Vecchia Audace, avete vinto proprio nei minuti finali grazie al gol di un tuo compagno su un calcio d'angolo, mi fai un commento di questa partita e poi ti chiediamo anche come stai e se riuscite a inizio a secondo tempo. Ok, partita tosta, partita dura, partita vinta coi denti, come sapevamo perché comunque un campo difficile, una squadra difficile, campo pessimo, però alla fine poi conta il risultato e siamo contenti di averlo raggiunto. E io ho 44 anni, alla fine, è sempre più giovane, ti ringrazio, grazie mille, però dai, adesso vediamo, ho sentito un po' tirare, vediamo poi in settimana di recuperarvi. Ti chiedo dove volete provare ad arrivare, eravate stati promossi due anni fa, l'anno scorso siete retrocessi, quest'anno siete in una buona prima categoria, avete una buona squadra, un giovane difficile, dove volete provare ad arrivare questo Cugliano e Valleggia? Voglio provare a far bene, ci sono squadre più attrezzate di noi probabilmente, che hanno detto fuori dai denti che vogliono vincere il campionato, noi vogliamo provare a far bene, lo faremo perché siamo un grande gruppo, l'abbiamo visto dall'inizio, vedremo già a dicembre dove ci troveremo e poi faremo i nostri conti. Benissimo Davide, ti auguriamo tutti quanti una pronta ripresa il più veloce possibile. Grazie mille.